mister a distanza di qualche mese di nuovo alle prese con l'emergenza covid purtroppo sì pensavamo di essercelo buttate alle spalle invece ci siamo ricaduti ancora una volta pesantemente niente adesso siamo pochi cerchiamo di recuperare un po gli acciaccati che già ce manca abbastanza e c'è questa emergenza adesso cerchiamo di gestirla nel migliore dei modi si giocherà è arrivato poco fa il comunicato poi ci sarà la sosta a questo punto come cambiano i programmi di lavoro cambiano perché ci eravamo organizzati per fare un determinato tipo di lavoro adesso purtroppo non è che cambia il programma è che tanti ragazzi purtroppo non possono neanche farlo perché stanno col covid quindi adesso facciamo passare i giorni poi martedì rifacciamo il punto di situazione con un nuovo giro di tamponi e vediamo sperando di non trovarne altre persone e che queste persone positive si negativizzino in modo che tornino a fare allenamento grazie a tutti grazie a tutti